L'addestramento viene realizzato a piccoli passi. Gli addestratori utilizzano le braccia e le mani per guidare e comunicare con i delfini. Ma le mani non possono arrivare ovunque, necessitano di un prolungamento, detto target. Ogni volta che il delfino toccherà il target, verrà fischiato e questo significa bravo, hai fatto bene. L'animale segue il target ed esegue i movimenti proposti dagli addestratori. In questo caso, ad esempio, stiamo per osservare l'addestramento ad un salto naturale modellato dalla nostra Elania.